Buonasera e ben ritrovati a Focus, programma di approfondimento di eventi Sicilia. Questa sera vi presento subito l'ospite, si tratta dell'onorevole Francesco Aiello. Buonasera, benvenuto, ben ritrovato a Focus. Ci sono tanti argomenti all'ordine del giorno, innanzitutto io le chiederei un'analisi del voto, visto che comunque ci siamo lasciati alle spalle regionali da pochi giorni, tutto sommato. Il voto sicuramente segna un cambiamento nella politica siciliana, credo anche nella politica del Paese. Quello che sta accadendo nelle città italiane ieri è accaduto in Europa, è la misura di questo distacco tra le politiche dominanti istituzionali e la gente, i cittadini. L'astenzione che c'è stata altissima a Vittoria, in Sicilia, è un segno di questo distacco, critico. La gente non crede nella politica di questo tempo, nelle politiche istituzionali e si ferma, si blocca, non va a votare. D'altro canto la protesta viene interpretata in modo forte da Grillo, che è un fenomeno particolare di protesta. Devo dire anche che rispetto alla radicalità dei processi che si stanno verificando in Italia, in Sicilia, in Europa, è tutto sommato un movimento che porta dentro la democrazia fasce di dissenso che potrebbero anche degenerare. Il pericolo della degenerazione è in campo, è in atto. E quindi credo che vivremo ancora settimane, mesi difficili, in cui al centro c'è, se la politica deve mettere al centro le banche e i suoi interessi, oppure gli interessi della gente, delle persone. Ecco, ma in tutto questo hanno avuto una colpa i partiti cosiddetti tradizionali? Per esempio, questa mattina, ieri ci sono state delle manifestazioni in piazza contro la crisi, sono state in tutte le piazze, non solo italiane, sono state in 23 paesi europei. A livello nazionale invece si discuteva sull'Election Day, per quanto riguarda i partiti principali. Questo forse c'è una distanza tra il paese reale e quello della politica? Certo, è comunque un problema di percezione. Il dato più grave è che ieri nelle piazze italiane c'erano contemporaneamente i giovani che protestavano e magari si scontravano con le forze dell'ordine e gli operai, i lavoratori, questa divisione che ancora non si riesce a ricomporre. È come se l'Italia si fosse spaccata in due, ma entrambe queste parti sono critiche verso il governo e le politiche delle banche, le politiche di Bruxelles, della Banca Europea, del governo Monti. Sono critiche, le piazze sono critiche verso i governi. Però c'è questa separazione, secondo lei, tra studenti e lavoratori, tipo rispetto per esempio alle grandi manifestazioni, alle grandi proteste degli anni Sessanta? Sicuramente c'è. Non è stata mai facile questo contatto. Anche nel 68, voglio dire, il contatto con il PC, che era l'ala più forte del movimento operaio e democratico, fu difficile e non si ricompose mai. Tanto è vero che una parte del movimento studentesco poi approdò verso esiti terroristici, verso il terrorismo. Io credo che la ricomposizione del Paese rispetto a una politica umana, centrata sul lavoro, sulle persone, sullo sviluppo, sul rispetto dei territori e non della grande finanza speculativa, sia la premessa per fare assieme questo passaggio molto difficile per il Paese. Anche in Sicilia è così, fondamentalmente. In Sicilia stiamo assistendo in questi giorni alla composizione della giunta regionale. Inizialmente si era fatto anche il suo nome come assessore di Crocetta. Lei ha smentito subito? Ho smentito subito perché intanto non si capisce perché debbano essere messi in giro dei nomi. C'è un po' questa moda del totonomi, del toto candidato, del toto ossessori. C'è un po' l'esplosione dell'informazione attraverso i siti, attraverso Facebook, Twitter, chiunque può mettere in giro questo e la città globale, dell'informazione globale. E quindi questo nome, non so se per farmi complimenti o per bloccarmi. Quindi comunque assolutamente non vero, cioè che si è incontrollato e circolato il suo nome a un certo punto. No, c'è di vero una cosa, c'è di vero una cosa. Il giudizio sulla mia esperienza è dato da tanti in Sicilia, da tante persone, da tanta gente. E credo che prevalgano i giudizi positivi rispetto a quelli negativi che ci sono. È chiaro che io sono consapevole e convinto che l'assessorato agricoltura in Sicilia sia nel centro del mirino, sia uno dei fuochi più difficili da controllare. Ho la presunzione di poter dire che la mia esperienza, la mia capacità di lavoro hanno impressionato anche qualcuno per i risultati che sono riuscito a conquistare. Il rapporto con Crocetta, fra me e Crocetta, è antico. Io ho partecipato alle sue campagne elettorali all'inizio, quando era sindaco, e successivamente si è interrotto soltanto per la vicenda vittoriesa. Quando Saro Crocetta scelsero di non impedire l'oltraggio che fu fatto nei miei confronti da parte di questi gruppi dirigenti, e quindi io sono stato lasciato solo in questo senso. Lì ci siamo divisi. Ma il rispetto e la stima per Saro Crocetta rimane intatto. Lui lo sa questo, credo che però i tempi della politica vadano rispettati. Ne è tempo di dipenditismo. Sono convinto però che se Lombardo non fosse riuscito a staccare Miccichè da Musumeci, oggi lì ci sarebbe, non per togliere merito alla battaglia di Crocetta, perché è stato un patto nuovo in Sicilia, però non ce l'avrebbe potuto fare se il centro-destra fosse stato compatto. Ma i grillini invece secondo lei a chi hanno tolto voti? O hanno pescato un po' indistintamente? Hanno raccolto, diciamo così, orizzontalmente, in tutti i gruppi sociali. Io ho visto qui le sezioni del centro della città, che erano di maggioranza di centro-destra, qui hanno preso voti come in periferia, ma quello che il voto di Vittoria però è segnato molto di più dall'ascensionismo, che ha raggiunto il 60%. Quindi sono cifre altissime. Senta, parlava prima di... In ogni caso sono, voglio dire, sarei pronto in ogni caso, dentro un quadro di chiarezza e di rispetto a dare il mio contributo. Ecco, parlavamo di assessorato all'agricoltura, un assessorato particolare, un assessorato difficile. C'è stato anche un decreto, un pacchetto a sostegno dell'agricoltura che porta proprio il suo nome, il pacchetto a Iello. Quali sono i punti principali? E in che modo vanno a superare quelle criticità che sono ataviche per quanto riguarda la nostra isola, che è fortemente evocata per questo settore? Veda, per molti anni l'assessorato all'agricoltura non ha avuto un assessore. Voglio essere un po' presuntuoso. Nel senso che l'amministrazione che ha avuto dei direttori molto bravi e capaci e la capacità di spesa dei fondi del PSR è alta, tra le più alte fra le regioni del Mezzogiorno e anche dell'amministrazione regionale. Quindi la dottoressa Barresi, Dario Cartabellotta e altri, ci sono funzionari e direttori bravi, però lasciati soli, lasciati all'interno di governi tecnici e di assessori, quindi che avevano una funzione di rappresentanza, erano lì solo per fare bella mostra. Ma il discorso sulle prospettive, delle verifiche, del rapporto con i territori, delle criticità, di quello che è più urgente o meno urgente, questo veniva totalmente sottovalutato. Io quindi come potevo operare se non fidandomi anche ancora di questo ruolo di direttori, ma individuando, poi tre mesi, quattro mesi, individuando però i punti innovativi, i punti innovativi che erano quelli che i movimenti hanno portato sulla scena, i movimenti siciliani, anche i forconi, a parte gli errori commessi, ma i movimenti in generale sono esposti a fare errore. Uno dei limiti dei movimenti è il personalismo, l'individualismo e la tenuta rispetto a chi ti vuole tirare da questa parte e chi ti vuole tirare dall'altra parte. Ebbene il pacchetto cosiddetto Aiello parte dall'antitaroccamento delle merci, la questione quindi della dumping, la questione della contraffazione delle merci, dei controlli, del monitoraggio, della legalità nella filiera che poi porta all'articolo 62. Ma non c'erano già questi controlli? Cos'è cambiato? Sono molto, voglio dire, simbolici per la verità, nel senso che le strutture tecniche della regione le ho trovate io in situazione di sbaraccamento da Contrada Perciata all'Agenzia Asca, ne abbiamo due in provincia di Ragusa. Ne avevamo due, perché l'Asca ormai pare... Ma anche Contrada Perciata. Non è mai decollata Perciata, però l'Asca invece funzionava, era una realtà anche interessante. Era importantissima l'Asca, l'Asca era un successo straordinario che poi la brutta politica ha divorato, ha distrutto e le guerre. Io ho ripreso queste strutture nel senso di concepire un'architettura, di collegamento fra di loro e di portarle fuori da una logica in cui si fanno progetti, si spendono soldi ma non servono a nessuno e quindi il rapporto col territorio per fornire servizi, analisi e poi per costruire questa politica di tutela, costruirla con i controlli alle dogane, alle frontiere, nei luoghi di vendita, nei luoghi della distribuzione, monitorare per tutelare la salute dei consumatori e quindi questo aggancio con la sanità. Abbiamo fatto un progetto addirittura Vivi Sano, Mangia, Siciliano con l'assessore Massimo Russo, abbiamo fatto un progetto di questo genere e quindi queste strutture gerarchicamente collegate fra di loro dovevano, debbono servire perché ora il progetto è stato ingardinato, avviato sia a dare servizio al territorio sia agli obblighi dei controlli che si fanno giorno per giorno. Quindi ci sono delle buone positive per quanto riguarda sia l'ASCA che il centro di contrata perciata. No, l'ASCA non esiste più, sono state trasformate in unità operative, sia contrata perciata sia ASCA, unità operative, che è un'altra cosa. Quindi ora ne ho trovato governate dall'assessorato, però sono strutture di certificazione garantita, abilitate per poterlo fare e quindi queste specificità di strutture che certificano l'olio, il vino, le produzioni zootecniche sono delle cose importanti da riprendere perché erano abbandonate, come delle isole alla deriva e quindi personale pagato, senza sapere per fare che cosa, per quale finalità. Quindi anditaroccamento, Marchio Sicilia, per la prima volta anche in rapporto alle scelte che l'Unione Europea ha compiuto nel mese di aprile-settembre, dando la possibilità alle regioni, ai territori, di fare dei marchi di aria istituzionali con dei disciplinari che superano il municipalismo dei marchi. Ognuno vuole il suo pomodoro, il pomodoro di Acate, il pomodoro di Pachino, il pomodoro di Vittoria che sono delle lugubri invenzioni perché i semi partono da Israele, da Formosa e vengono venduti in tutta Europa. Quello che noi dobbiamo fare è un marchio di valorizzazione delle produzioni siciliane, Marchio Sicilia che si ottiene attraverso il rispetto di disciplinare di produzione, unico marchio e poi ci sono le sottodistinzioni se vuoi, anche territoriale. Questo si è fatto con la DOC Sicilia per quanto riguarda i vini. Immaginate se in Australia o in Giappone viene meglio portare il Cerasuolo di Vittoria oppure il vino di Sicilia dentro cui il DOC Sicilia vi sono poi il vino dell'Etna nel Cerasuolo di Vittoria. Quindi il pacchetto... Quindi che non vanno comunque a scomparire però c'è questo marchio che li raccoglie un po' gli obiettivi quindi l'antiteroccamento Marchio Sicilia chilometro zero per esempio che è stato in Gardena... L'avete un po' rubato alla Goldiretti questa cosa. No, 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 è un'altra cosa. Guardi, è un'altra cosa. Chilometro zero non è prendere il prodotto dal campo e portarlo in piazza. Assolutamente. Chilometro zero per esempio è per quanto riguarda un ristorante le faccio un esempio con la white list con la lista buona e quella di vedere se in quel ristorante capita sull'autostrada lei entra per una bottiglia di vino non c'è un vino siciliano. Lei non potrà riconoscere mai una white list a una struttura di questo genere. Lì dove entrando troverà la pasta l'olio il vino tutto quello che c'è lì dentro siciliano garantito dal formaggio lì la regione darà un marchio di riconoscimento di sicilianità garantita di qualità non perché sia siciliana e basta ma di un prodotto certificato e garantito che entra nel circuito della ristorazione con un forte rapporto con la territorialità perché i prodotti agricoli sono soprattutto territorio evocano ecco perché bisogna da questo punto di vista dobbiamo anche essere autocritici i territori vanno mantenuti immacolati noi siamo invasi dalle discariche questo è non è un problema di serra o di vino o di vigneti il problema è che la cultura di tutela dei territori deve arrivare a capire che un filo d'erba sul marciapiede o una discarica sulla strada sulla trazzera è un assalto all'economia ai valori del territorio queste cose ho fatto ma la cosa più importante mi permetto di essere lieto di comunicare orgoglioso di averlo orgoglioso orgoglioso di averlo fatto e questo è il ciclone ados mi permetto di dire anche che il sindaco farebbe bene a leggerli i decreti intanto non è un decreto assessoriale è un decreto ministeriale del ministro Catani di leggere bene capisco che non ci sono precedenti nella storia della regione ma questo è uno dei più grandi risultati che soltanto perché ho qualche annetto sono riuscito a realizzare a concretizzare e a portare in 5 province siciliane una risposta con i fondi relativi di 102 milioni di euro che non serviranno solo per il ciclone atos serviranno anche per altri eventi calamitosi che sono stati già accreditati nel conto corrente dell'assessorato agricoltura e che sono il compendio diciamo così di una capacità di arrivare al risultato che molti mi riconoscono che su cui ho appuntato molto e siccome capiscono molti miei critici per non dire avversari però per criticare queste cose bisogna prepararsi non inventare come ha fatto il sindacone così ma cosa prevede questo articolo 62 prevede no l'articolo 62 ciclone atos ciclone atos è l'evento ciclone dell'aprile marzo aprile 2020 per cui che cos'è un ciclone innanzitutto nella terminologia giuridica dell'europa la parola ciclone è intraducibile perché è un fenomeno tropicale la legislazione europea e nazionale italiana non prevede che si possa riconoscere un evento calamitoso col termine ciclone noi sappiamo benissimo che cos'è il ciclone il ciclone è una sommatoria di eventi interni c'è la tromba d'aria c'è il vento ciclonico c'è la pioggia torrenziale c'è la grandine ci sono quindi sono ma la legge dice tu devi individuare la forma prevalente che quell'evento ha avuto quando sono state presentate le istanze abbiamo parlato di venti sciroccali di venti ciclonici in realtà l'aspetto prevalente era la pioggia all'ovionale quella tra l'altro che i funzionari del ministero hanno accertato che sono venuti qui in provincia di Ragusa in provincia di Siracusa da noi sollecitati a constatare a verificare lì dove i dati oggettivi provenienti dalle rilevazioni dei monitoraggi e i dati visibili riportavano alla prevalenza della pioggia all'ovionale non solo perché nel dirillo in altre parti c'è stata l'esondazione ma perché la pioggia all'ovionale fra i fenomeni presenti quella la pioggia all'ovionale presenta la caratteristica però che non è assicurabile mi permette invece i venti sciroccali essendo sottoposti al regime assicurativo escludevano i due terzi delle aziende da qualunque forma di intervento prima di parlare bisogna studiare prima di parlare bisogna leggere prima di parlare bisogna capire mi rendo conto ma vabbè io sono lo ripeto orgoglioso benissimo siamo in chiusura grazie all'onorevole Francesca Iello per essere stato con noi grazie a tutti voi per averci seguito Focus ritorna domani sera arrivederci buona serata grazie a tutti grazie a tutti